Riparte oggi a Ragusa il servizio della refezione scolastica. Si inizia con circa mille pasti che saranno distribuiti in 25 istituti scolastici. L'assessore alla pubblica istruzione del comune di Ragusa, Gianluca Leggio, ha assicurato che sono previsti dei particolari controlli per verificare che tutto sia in ordine. Per l'avvio del nuovo servizio ci saranno occhi puntati di politici e soprattutto di genitori che per mesi hanno polemizzato con l'amministrazione comunale contestando un servizio di refezione ritenuto non adeguato e perfino scadente, arrivando ad ottenere l'arrevoca dell'apparto alla Stefano SRL. Il titolare dell'azienda però non ci sta a subire queste accuse e annunciazioni legali contro la decisione dell'amministrazione comunale. Alla Sicilia, Franco Flaccavento ha spiegato di essere amareggiato per come è andata questa vicenda. In tutta questa situazione, ha affermato, ci sarebbe voluta più calma. Invece mi sono sentito come se fossi all'interno di una centrifuga senza avere la possibilità di scendere. Per Flaccavento il suo principale errore è stato quello di partire con il servizio subito dopo le festività natalizie. Siamo partiti con il piede sbagliato, ha detto. Il titolare della Stefano SRL poi si rivolge ironicamente alle mamme, auspicandogli adesso vigilano con lo stesso accanimento che hanno avuto nei suoi confronti.